Piero Massimo Macchini, insieme ad onoranze funebri Luzzi, hanno deciso di celebrare la vita. Allora, c'è un francese, un inglese e un italiano. Allora, il francese dice... 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 Un attimo, mi sono scordato, scusate. Io ti faccio, ti faccio. Allora, c'è un francese, un tedesco e un italiano. Allora, il francese è proprio de Parigi, perché è francese e abita a Parigi. L'inglese invece sta a Londra, che è la capitale dell'Inghilterra. E l'italiano... Allora, c'è un inglese, un francese e un italiano. Allora, anzi no, non c'era l'inglese, perché non poteva venire, ci stava solo il tedesco. Quindi, c'è un tedesco, un francese e un italiano. Allora, il francese dice... Noi in Francia siamo la nazione più grande del mondo. Allora, il tedesco dice... No, 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 nein. Noi in Germania siamo la nazione più grande del mondo. Invece, alla fine, c'era l'italiano, che era un po' marchigiano, de maggiorata, che fa... Veramente, la regione più grande del mondo è la Russia. La varzelletta finisce qua. 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 Grazie a tutti.